Leao rimane al Milan, la squadra rossonera per eccellenza. L'uomo portoghese per eccellenza infatti ha firmato il rinnovo del suo contratto, pensate, fino all'anno 2028. Dopo diversi mesi di trattative, dunque arriva questo ok, questo chiamiamolo interesse, e quindi vengono ad essere eliminate quelle pseudo o presunte voci di un addio alla squadra rossonera in questione. Diciamo che la popolarità di Leao la conosciamo tutti, è abbastanza elevata, sembra proprio che al Milan Leao stia abbastanza bene, di conseguenza perché dover cambiare squadra, quindi rimane attivo al Milan e ovviamente sono contento che continuerà a fare del suo meglio all'interno di questo club sportivo. Dunque, complimenti a Leao, complimenti a lui, fino all'anno 2028 è legato al Milan, continua a essere un giocatore, abbiamo ancora 5 anni dove lo continueremo a vedere. Dal vostro narratore italiano di Youtube Italia è tutto, auguro di caro Leao, ciao a tutti.